Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale come avevamo già detto con lieve ritardo perché io non c'ero, ero a Roma ma sono riuscito ad andare all'Eurospin sabato a Roma e abbiamo la seconda uscita dei Weavits The Simpsons allora prima di andare a aprire quello che si vede già, cioè Marge andiamo a vedere in cosa consiste il tutto allora da sabato 18 marzo, ogni sabato facendo 35 euro di spesa singolo scontrino, se fate 70 euro non ve ne danno due quindi solo uno superando i 35 euro abbiamo prima Homer, poi Marge che apriamo oggi poi Maggie, poi abbiamo piccolo aiutante di Babbo Natale Bart e Lisa e da oggi il più curioso di cui non sapevamo proprio come si potesse muovere era lei e gli altri avevamo già i sospetti per esempio lui ci muove così, lui la testa, lei il cuscino, lei probabilmente alzata esatto, ma qua poi ci sono un sacco di articoli legati ai Simpsons in vendita all'Eurospin un'altra cosa è che da oggi escono altri sette personaggi tra cui il poliziotto, tra cui il nonno e altri il clown e sono acquistabili semplicemente direttamente all'Eurospin allora andiamo a rivedere velocemente Homer qui dietro c'è il tasto e lui, mangiatore di ciambelle cereale, mangia la sua ciambella spesso durante il turno di lavoro andiamo a vedere, vai, apri wow vediamo prima come è è una testa gigantesca guarda lo confronto a Homer cioè non è grande come quella di Homer ma è altissima e vediamo, aspetta, il tasto dov'è? è qua dietro ah, è una leva ah, muove la testa a sinistra e a destra vediamo, lo mettiamo un po' più centrale vi faccio vedere, qui c'è la leva e questo è a scatto il movimento come dire, chiamala? Marge e si gira a scatto e quindi questi sono i due in pratica, se non ricordo male, questi sono sei ce ne sono altri sette, ma dovrei andare a controllare sul sito ci sono sette, quindi sono tredici personaggi e qui non lo dice allora, lui il 18 marzo lei dovrebbe muovere sul cuscino perché avevi dicevo lui dovrebbe muovere la testa lui andare sullo skateboard l'ho vista nella velocità e lei avvicinerà al sassofono e già oggi se riusciamo vi facciamo vedere qualcosa di quelli extra che adesso vedo di riuscire ad andare a comprare e in anteprima visto che questo video esce ora quindi tempo un quarto d'ora sono l'una e un quarto per l'una e mezza è pubblicato che poi guarda sembra che fa tipo il ballo del cocua è un po' vero che fa faremo vedere la prima uscita delle maghette dello studio Pierrot giusto? cioè crimi e lemi me ne ha vesti da parte l'edicolante adesso le vado a ritirare quando tu rientri a scuola e stasera li facciamo quindi ma io rimanete sintonizzati io non ne sapevo nulla rimanete sintonizzati su questo canale io vi ricordo di iscrivermi al canale mettere un like condividere i commenti schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video soprattutto quelli dei Simpson e come sempre noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao ciao